Professore Passaro, l'uomo è signore o figlio della terra? E' figlio e signore, non c'è un'alternativa, nel senso che secondo il racconto biblico, che rimanda tutto in principio, quindi come dato originario e originante, l'uomo è fatto dalla terra. Il secondo racconto della creazione di Genesi 2 dice che Dio plasmò l'uomo dalla polvere della terra, quindi l'uomo viene dalla terra e alla terra ritorna. E' per noi anche signore, perché nel tempo della vita Dio gli ha conferito una signoria regale su tutto ciò che Dio ha fatto, che non ha fatto l'uomo. E questo è partecipare all'opera e continuare l'opera della creazione di Dio. E' una spiritualità, è un modo di intendere il rapporto con la terra straordinario dal mio punto di vista e dal punto di vista delle scritture, perché dice di un potere che l'uomo deve esercitare, ma un potere che non si è dato l'uomo, che gli è partecipato e che lo rende quasi come Dio, pur non essendo Dio. Ma una signoria che poi va declinata come custodia della terra, va declinata come servizio alla terra, appunto perché la terra è opera di Dio e l'uomo stesso che viene dalla terra è opera di Dio. La trasparenza nel mercato è la condizione fondamentale perché le imprese agricole possano competere sul piano della parità e soprattutto perché i consumatori possano scegliere sul piano della consapevolezza ciò che portano a tavola. Quindi la libertà delle imprese è legata alla libertà dei consumatori di scegliere. Fin quando sul mercato noi non troviamo dei prodotti che abbiano una precisa origine geografica rispetto alla filiera produttiva, non riusciamo a creare delle condizioni di mercato tali per cui gli agricoltori ricavano un giusto reddito e i consumatori dei prodotti buoni, per cui oggi con Coldiretti a partire dal latte conservato, dal latte pastorizzato, a lunga procedura di durabilità, si sono poste le condizioni per fare un passo in avanti verso queste condizioni di trasparenza. E si è instaurato un dialogo con il governo per l'etichettatura della pasta perché anche il grano ha bisogno di essere conosciuto da parte del consumatore. Allora se quest'anno i prezzi del grano per gli agricoltori sono stati così bassi è perché sono stati importanti nel nostro paese che ha una tradizione manufatturiera importante nella lavorazione della pasta, grani dal Canada, dal Kazakhstan, da paesi lontani dove magari si utilizzano dei prodotti fitosanitari come il glifosate per poter consentire le condizioni di conservazione perché in quei paesi il clima è diverso, c'è umidità e quindi bisogna utilizzare delle sostanze. In Italia, in Sicilia c'è il sole e quindi non si utilizzano quelle sostanze che fanno male alla salute. Ecco perché è importante l'origine per garantire reddito agli agricoltori ma sicurezza e salute ai consumatori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!